Buongiorno a tutti Questo identifica il fatto che vogliamo lanciare un prodotto nuovo, innovativo che potrebbe fare la differenza sulla regalistica aziendale Abbiamo in catalogo un assortimento di confezioni alimentari con panettoni, spumanti, torroni, marche di riferimento tra cui Lind, Tre Marie, Perugina Tutto questo è personalizzabile nel senso che ogni azienda seguiamo le richieste dell'azienda troviamo comunque sempre il modo di accontentare il cliente di poter trovare insieme quello che veramente può fare la differenza L'azienda, noi operiamo nell'interno al milanese a Peschiera Borromeo Abbiamo uno a un magazzino di circa 10.000 metri dove facciamo la produzione, abbiamo anche la logistica e tutto quanto Abbiamo due siti web, uno è dolciareagabor.it e l'altro è elegansmilano.it Crediamo in molto in questo nuovo logo, Elegans Milano e vogliamo veramente promuoverlo cercare di fare la differenza Siamo a Milano, la città ormai di riferimento per la moda dall'eleganza e tutto quanto Da questo motivo infatti nasce il logo Elegans Milano e cercheremo di far sì che riporti nella nostra città tutto quello che potrebbe essere il riferimento di un'azienda importante che da più di 30 anni operiamo in questo settore Buon lavoro e arrivederci alla prossima edizione da Elegans Milano